Le guardie ambientali arrivano anche ad Erice. La differenziata che non decolla e l'inciviltà di chi in barba le regole abbandona i rifiuti per strada hanno convinto il sindaco della Vetta, Daniela Toscano, a siglare una convenzione con l'associazione Fare Ambiente a cui verrà affidato il servizio di vigilanza. Fare Ambiente è un'associazione nazionale di protezione ambientale scritta al Ministero dell'Ambiente, svolge attività di tutela ambientale a 360 gradi e nell'ambito del proprio statuto ha individuato questa branca operativa della vigilanza ambientale e zoofila perché le guardie qua presenti sono anche delle guardie zoofile quindi hanno un decreto prefettizio e abbiamo il compito e il sentimento e la passione di collaborare con l'istituzione per dare un supporto operativo. alla Polizia Municipale per tutto quello che riguarda il rispetto dei regolamenti, delle ordinanze sindacali. Per questo la collaborazione con il Comune di Erice è fondamentale perché attraverso ciò noi otteniamo un decreto sindacale di ispettore ambientale che ci consente di poter operare e quindi fare sia la fase di prevenzione che di ripressione. Saranno 10 volontari che rivestiranno a tutti gli effetti il ruolo di pubblico ufficiale, di agente di polizia amministrativa e quando espressamente previsto dalla normativa anche il ruolo di agenti di polizia giudiziaria. Il decreto sindacale è pronto e da lunedì dovrebbe partire il servizio. Sarà una vigilanza a 360 gradi sul territorio, quindi per il controllo del territorio ma non solo, anche sulla corretta differenziata. E approfitto per comunicare che finalmente abbiamo raggiunto il 50% di organico grazie al lavoro e greggio dei dipendenti dell'Aimeri e il nostro obiettivo è quello di raggiungere il 65% di differenziata, possibilmente se riusciamo anche ad abbassare le tasse e soprattutto anche un controllo del territorio perché ci sono troppe parti del territorio che sono ridotte ad una discarica e a tal proposito aggiungo che saranno operative anche le fototrappole. Abbiamo comprato circa 15 fototrappoli mobile che saranno posizionate in giornate diverse in varie parti del territorio proprio per garantire il rispetto dell'ambiente in cui viviamo e soprattutto per evitare che zone anche residenziali, ma non soltanto, anche San Giuliano, ci sono delle aree in particolare, siano ridotte ad una discarica. Il nostro ruolo è stato quello di controllare i compartugli sia dinamiche che statiche sul corretto conferimento della differenziata sul territorio. Inizialmente noi svolgeremo attività di informazione e sensibilizzazione nei confronti della cittadinanza e poi in un secondo momento attualmente, se necessario, si provvede anche al sanzionamento in caso di eventuali illeciti, diciamo, reati.